Le politiche di innovazione nel mondo aerospaziale devono contemperare le esigenze sia del mercato che delle industrie, sia dei cittadini che dei territori. È molto importante connettere sia le politiche nazionali con quelle europee in modo da poter trarre beneficio dalle best practice del mondo high-tech internazionale e anche andare a guardare i due principali pilastri che sono il mondo aerospazio dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi. I servizi sono a favore del cittadino, le infrastrutture sono gli oggetti che servono per operare i servizi.